Gentili amici, artisti, spettatori, giornalisti, operatori, vi ringrazio per l'attenzione. Proprio in questi giorni nei quali viene diffuso questo intervento, avrebbe dovuto svolgersi alla Fondazione MERS, tradizionale alleato, la presentazione della venticinquesima edizione del Festival delle Colline Torinesi. L'epidemia ce lo ha impedito ed è giusto che ciascuno di noi sia ancora in casa, magari per ritornare al più presto, pure in teatro. Dalla mia di casa vi parlo per qualche cenno su un programma che non verrà organizzato nelle date previste, cioè dal 4 al 20 giugno, ma in altro periodo che non possiamo ancora precisare. Il Festival del Nuovo Periodo difficilmente avrà proprio lo stesso programma, per ragioni evidenti, altri impegni delle compagnie e degli artisti, mutata disponibilità degli spazi. Sarà nostra cura operare perché le differenze siano minime. Il cartellone preparato per giugno, concedetemi la valutazione che aspetterebbe ad altri, è infatti di particolare interesse. E non vorremmo perdere nulla. Intanto mi piace sottolineare che 25, venticinquesima edizione significa un quarto di secolo di programmazione, un bel tragitto, assolutamente da festeggiare insieme al pubblico, quando e come sarà possibile, ma da festeggiare anche con iniziative tipo mostre e incontri in web, su cui stiamo ragionando. Il successo del Festival è nato in primo luogo da un patto con gli artisti e gli spettatori e chiama in causa la fiducia dei sostenitori pubblici e delle fondazioni private, la collaborazione del Teatro Stabile di Torino, del circuito Tiemonte dal vivo, di altri partner anche internazionali, e, da un biennio, la condivisione fondamentale della Fondazione Teatro Piemonte Europa, diretta da Walter Malosti. Un successo, dicevo, che va assolutamente ad onore di uno staff eccezionale. Vogliamo appena accennare al lavoro fatto per la venticinquesima edizione. Solo pochi indizi. Il segmento internazionale del Festival sarebbe stato inaugurato, così come il cartellone complessivo, dalla Need Company di Jan Lauers, attore, autore, regista belga, di formidabile talento e qualità. Lo spettacolo All the Good avrebbe portato a Torino, anche grazie al sostegno del governo delle Fiandre, e, crediamo, porterà Torino più avanti, una creazione di sicuro interesse, con più linguaggi espressivi rappresentati, prosa, musica, danza, arte contemporanea. Il Festival 2020 si sarebbe concluso con una trilogia di Licia la Nera, Chekhov, Majakowsky, Bulgakov. Poi, in mezzo, vari spettacoli e artisti italiani ed europei provenienti da Ungheria, Serbia, Francia, grandi interpreti, giovani autori, registi, attori italiani, spesso segnalatisi con la vittoria di premi, giovani a cui il Festival delle Colline Torinesi ha sempre riservato molta attenzione. Una parola d'ordine per noi è, da sempre, accompagnare. In tutto, 22 spettacoli, 53 recite e 7 prime nazionali. Il Festival 2020, per quel che riguarda gli argomenti proposti, completa il triennio ministeriale dedicato al viaggio, motivi di ispirazione non solo il viaggio dei migranti, ma anche altri tipi di viaggio nelle biografie, nella storia e anche nella memoria, ad esempio. Per una volta, però, per la venticinquesima edizione, vorremmo considerare pure il viaggio alla riscoperta di taluni motivi ricorrenti del Festival, quali Il teatro fuori dai teatri, La contaminazione dei linguaggi, La ricerca di una nuova lingua drammaturgica. Ricordo che nel 1996 e nei tre e quattro anni successivi il Festival volle riflettere sulla cosiddetta insoddisfazione della lingua, portando in scena autori come Testori, Gadda, Cappuccio, Guerra, Tarantino, e poi Spiro Scimone, Emma Dante, Saverio, La ruina, che proprio dalla contaminazione tra le lingue e i dialetti erano partiti. Furono gli anni delle prove di grandi artisti come Marisa Fabri, Galatea Ranzi, Roberto Erlitzka, Massimo Popolizio, Mauro Avogadro, Umberto Orsini, lo stesso Malosti. Poi ci fu la sterzata verso la creazione contemporanea, quella più sperimentale, con Motus, Societas, Pippo del Bono, Fanni e Alexander, Teatro delle Albe, Antonio Latella, De Florian Tagliarini, Cuocolo Bosetti, Anagor, Marcido, Rodrigo Garcia, Iber Colà, Wajdi Muawad, Rabim Rue, Amir Reza Questani, Ludovic Lagarde e tanti altri. Si indagarono successivamente vari temi, i rapporti tra le generazioni, il teatro al femminile, l'identità di genere, il viaggio. Negli ultimi anni il festival si è apparentato a quei festival europei, a partire da Avignon e Kumsten Festival des Arts, che indagano nella sperimentazione, appunto, e la suggeriscono al pubblico. Dopo lo shock del coronavirus, credo che le relazioni con l'Europa vadano rilanciate, nonostante tutte le difficoltà. Quelle con altri festival italiani hanno visto il festival delle colline torinesi farsi promotore di una rete estesa. Agli artisti, agli spettatori, a tutti, chiediamo di aspettarci con fiducia, appena sarà possibile, distanziati o riavvicinati.